buongiorno ragazzi e ragazzi benvenuti al palazzo Sant'Ambrogio va a iniziare FANSPORTS contro l'Hydro Construccia insieme i temi FANSPORTS con Fidalco, Pasquale, Mantero, Bratko, Silma, Azvedo, Tito e Ramoy Hydro Construccia con Kobian, Ponezia, Rizia, Florea, Mikan, Mita, Ionescu, Vintila, Simranda e Pascovici oh, provoca da sua parte, il palazzo è fuori wrong touch dal palazzo, l'opportunità per il numero 4 è ancora 0-0 right pass per il numero 14, il palazzo è fuori numero 15, Mikan, Circea, una buona show e poi la scuola del numero 15, Florea, va fuori rischi pass, buona recuperazione del numero 10 e poi, ancora, un'altra opportunità per l'Hydro Construccia ma non trova il gol corner per l'Hydro Construccia buon pass, buon salvaggio e poi il palazzo è fuori di nuovo ma l'Hydro Construccia dovrebbe servire per prendere il giro controattacca controattacca del FUNSPORTS la balazzo è fuori 3 contro 1 e numero 11 esattamente, Giorgio Mita scorre 1-0 per l'Hydro Construccia che prende la ruota controattacca del FUNSPORTS la balazzo è fuori quindi con il piede left Vintila va vicino al 2-0 ma è fuori buon passaggio da numero 10 che serve un fantastico assist fantastico è anche il salvaggio da Pasquale corner è solo numero 25 ci sarà un altro corner buon ball un'opportunità fantastico club numero 14 in Smarandia 2-0 Hydro Construccia ancora Hydro Construccia grande fantastico dal giro doppio incredibile FUNSPORTS così male oggi buona opportunità non è non è non è non è non è non è il terzo il terzo il terzo il terzo il terzo numero 14 due per lui 3-0 per l'Hydro Construccia per l'Hydro Construccia per l'Hydro Construccia per l'Hydro Construccia è un buon pass il terzo numero 13 scopo il terzo il terzo il terzo è finito e è l'Hydro Construccia vince 4-1 contro FUNSPORTS FUNSPORTS